e Zenbi mentre più discosto rispetto al mezzo meccanico Zlatan via si parte, prende velocità il mezzo meccanico ed è velocissimo Zakaria Bar che Ricco Bellei porta facilmente al comando ma è sotto la minaccia di Zabulfi con Andrea Farolfi mentre ha trovato posto in corda Zilat e cerca di avanzare immediatamente Zidane Griff che anticipa Zephir Gar 200 metri volati via in 1.13.8 mentre è sfilato al comando Zabulfi che ha ottenuto via libera da Zakaria Bar alla sua destra c'è però ora il favorito Zidane Griff che avanza con una cadenza abbastanza sollecita 28.1 per i 400 metri iniziali e Andrea Farolfi non senza spesa cede strada alla fine a Zidane Griff che è il nuovo leader dopo 600 metri passati in 42 secondi netti al comando il favorito Zidane Griff in seconda posizione Zabulfi a precedere Zakaria Bar poi più indietro vediamo Zephir Gar, Zilat, Zlatan, Zemaria per corsie esterne Zibibo MDM poi Zigolo Debuti mentre a chiudere la fila c'è Zephir Obel il primo mezzo miglio se ne è andato in 57.5 il chilometro in 1.11.2 conduce sempre saldamente Zidane Griff nei confronti di Zabulfi e di Zakaria Bar in quarta posizione Zilat ma c'è il colpo di scena la rottura imprevedibile da parte del favorito Zidane Griff che lascia dunque via libera al nuovo leader Zakaria Bar per corsie esterne Zilat in seguito all'esterno da Zemaria la cui scia è stata rilevata da Zlatan e Giampaolo Minucci ultima curva con Zabulfi che tenta la fuga stenta a seguire l'andatura Zakaria Bar è un po' in calo anche Zilat ha girato ora da Zemaria mentre addirittura in quarta ruota vola Zlatan indirittura d'arrivo cerca di difendersi Zabulfi ma è presto preda di Zemaria all'esterno del quale si profila la minaccia di Zlatan ultimi metri appassionanti vince Zlatan il gol di Zlatan e di Giampaolo Minucci che vincono il loro derby in seconda posizione Zemaria a precedere Zabulfi quarto e Zephyr Gari